Lo scorso 19 settembre Monsignor Angelo Massafra dal 2005 arcivescovo metropolita di Scutari ha fatto visita alla sua diocesi partendo dalla parrocchia di Boric dove i padri dioniani sono impegnati in missione da tanti anni. Dall'Albania ci racconta di questa esperienza vissuta da tutta la comunità con tanta attesa il padre dioniano Antonio Bozza. Ha avuto inizio lo scorso 19 settembre dalla parrocchia di Boric in Albania la visita pastorale del vescovo di Scutari Monsignor Angelo Massafra. La visita è terminata domenica 23 settembre con la messa solenne preseduta dal vescovo e concelebrata da due padri dioniani ai quali è affidata alla parrocchia di Boric così come racconta il padre dioniano Antonio Bozza. Il vescovo ha voluto incontrare tutta la diocesi e quindi anche le suore basiliane che con i due padri dioniani si occupano della pastorale della parrocchia che abbraccia un territorio molto vasto. L'occasione è stata utile anche per uno scambio di idee e di proposte. Monsignor Massafra insieme ai padri, alle suore e ad alcuni giovani animatori ha fatto tappa in tutte le cappelle periferiche nelle quali viene celebrata la Santa Messa tutte le domeniche. Il vescovo nella sua catechesi si è soffermato soprattutto su alcuni problemi che affliggono maggiormente quella zona dell'Albania. Vendette familiari, coltivazione spaccio di droga, gioco d'azzardo, allontanamento dalla messa domenicale e dai sacramenti. Ha poi voluto incontrare i bambini che frequentano l'asilo tenuto in parrocchia dalle suore basiliane, i giovani e i ragazzi che animano e frequentano il catechismo e per tutti parole di incoraggiamento e per i più piccoli anche qualche caramella. Intanto a metà luglio, come ci racconta sempre padre Antonio Bozza, si è svolto anche il campo animato dal gruppo Giovani in Missione, i giovani della provincia meridionale italiana Deoniana, che ha suscitato come sempre grande entusiasmo tra i ragazzi albanesi. Quest'anno la preparazione si è svolta con due giorni di ritiro in una struttura attrezzata per questo scopo. Due giorni intensi che hanno dato la carica ma soprattutto una preparazione specifica per affrontare al meglio il campo. Poi tutto si è svolto secondo un copione oramai collaudato. Al mattino un gruppo ha curato l'animazione del campo, mentre altri hanno fatto un giro per le famiglie più disagiate, per vedere da vicino situazioni di povertà estrema, portare un piccolo aiuto attraverso la donazione di cibo e vestiti e far sentire la vicinanza della chiesa. Nel pomeriggio invece visita le suore di Madre Teresa, che in Albania curano l'assistenza ai più poveri tra i poveri e ad altri due centri che operano sempre a Scutari. Si tratta del progetto Speranza, Papa Giovanni XXIII di Don Benzi e Giustizia e Pace.